La storia dell'informatica al Politecnico inizia nel 1954 e sostanzialmente si tratta dell'inizio non solo dell'informatica al Politecnico, ma direi dell'informatica in Italia. Infatti nel 1954 il professor Dadda, che allora era un giovane ricercatore trentenne al Politecnico, veniva incaricato dal rettore di allora, il professor Cassinis, per andare negli Stati Uniti a prelevare il primo calcolatore che fu portato in Italia. E questo era parte di un finanziamento che il Politecnico aveva ottenuto nell'ambito del piano Marshall, quindi per la ricostruzione dopo la guerra. E secondo me questa è una storia straordinaria, perché ha almeno due elementi importanti. Il primo è che il Politecnico, che riceve un finanziamento dopo essere uscito dalla guerra, quindi in una posizione di debolezza, sicuramente di non ricchezza, decide di investire in una cosa nuova, rischiosa, che era il calcolatore, quindi questo oggetto che allora nessuno ancora conosceva, ma che si poteva prevedere che avrebbe avuto un grosso sviluppo. Il secondo è che per fare questo manda un giovane, manda un trentenne, quindi investe il suo futuro in un trentenne per uscire dalla crisi. Nasce la laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano attorno agli anni 60 e dentro questa incominciano a esserci degli insegnamenti di informatica e nasce la ricerca anche in informatica. Questo poi porta nel 1990 a far partire la laurea in ingegneria informatica. Per progettare questi sistemi c'è bisogno dell'approccio sistematico dell'ingegneria, della capacità di utilizzare la scienza che sta alle basi dell'ingegneria, la capacità di capire anche le problematiche di costo, di utilizzo, che sono tipiche della mentalità dell'ingegnere. Se vogliamo parlare di aree di ricerca di cui ci si occupa in ambito di informatica, sono estremamente variegate. C'è una ricerca così detta sui big data. Big data significa la capacità di utilizzare in maniera efficace l'enorme quantità di dati che oggi è disponibile attraverso la rete e in particolare anche per sviluppare nuove ricerche, quindi ad esempio nei sistemi cyber physical. La capacità di progettare sistemi informatici che sono in grado di interagire in maniera attiva con l'ambiente. Altri esempi appunto sono ricerche nell'ambito della robotica, diciamo esiste anche proprio un'attività di ricerca che sta dietro lo sviluppo dei giochi, sia da un punto di vista dell'usabilità, quindi gli aspetti ergonomici connessi con i giochi, ma anche gli aspetti psicologici connessi con questi e poi tutta la tecnologia che sta dietro. Un altro settore interessante è quello dell'utilizzo dell'informatica per rendere possibile un utilizzo sostenibile, ad esempio, delle fonti energetiche. Quindi si pone il problema non solo dell'informatica che può aiutare in altri ambiti a rendere sostenibile il consumo di energia, ma l'informatica stessa che può essere progettata in modo tale da ridurre per quanto possibile il consumo di energia che lei stessa provocherebbe. E questo è un altro enorme settore.